E salve a tutti amici cooperiani e bentornati in questo nuovissimo video su Insarge e Seinstorm E questa volta siamo anche in compagnia del Bagico Seba Che l'ha pure appena comprato Quindi, prima di iniziare, ovviamente come sempre vi ricordo che in descrizione trovate il link con il 5% di sconto su tutti i vostri server Gportal Quindi signorini, se volete fare server su qualche gioco per giocare con gli amici e non spendere tantissimo Anche per fare 4 slot, 2 slot, andate a dargli un occhietto E poi trovate anche il link con la community italiana di Insarge, il mio disco Insomma, date un occhio alla descrizione che trovate cose interessanti Quindi signorini, vi lascio al video e niente, ci si becca Ciao veli Non devo spawnare Vado a aumentare la sensore che qua non va, un cazzo Poi se tieni premuto R fai il check del caricatore Ma non è la sensore, è il gioco che schizza, ecco, guarda A quanto le hai messe le impostazioni? Fa che c'ho tutto al massimo Mi fanno un antifps Io l'ho messo ad alto perché se no E per dirti, se no poi facciamo gli stessi fps Madonna che laggatone mi tira, anche a te? Sì, sì, infatti per quello Ma a me mi frizza anche la... Orca trovi, mi hai fatto cagare addosso Oh, ma cosa mi spari? Questa divina, dove cazzo sei te? Sono in mezzo a con questa ricetta Ah, sei te quello lì Per il nome del tuo nome Ma sei Sam? Sì Certo che sono Sam, ma non lo sapevi Ma poi di solito dovrei avere un pallino di un altro colore Ehi, grigio E io ti vedo verde, infatti Io no E perché? Ti vedo un celestino spento sul grigio Guarda, poi mi sa che modifico un po' le impostazioni Ma va, ma t'ho preso, bro Ahia Io corro suà Vengo a provo a venire Orca boia, stordito Pesso di merda, esci? Ah, l'hai ucciso te Quanti ne stai uccidendo lì dentro? Sento urli E non altro Ma no, no Ma dai, ma non posso sparare che mi frizza il gioco Dai Ah, che palle Sempre sei qualche parco due di problema Comunque anche a me ogni tanto dà qualche problemino, eh Secondo me sono alcune mappe Cioè, questa non l'ho mai vista È nuova È da dietro Vabbè lì Poi mi son fatto un AUG Che è un laser Che paura Infatti quelle che hanno tanto tanto rinculo vanno usate in singolo Sto prendo C Si cambia la rate di fuoco X Uno su B Cazzo, sono dietro allora Ma mica va, mi danno sempre un colpo Com'è possibile? Barbara, ancora Anche a te Barbara Che armatura, che corazza ti sei messo? Una leggera E allora ? Strano Scorri dove stai se b no no perché entrato a destra vicino a b però non vedo nessuno ha fatto una che mi spara la bella c da di da e da dappertutto classe lo sapeva la classe si tiratore voglio fare il tiratore for the hell are you the mohaffel un bel pacco per brazza e dove arrivare praticamente dove ci sono i pallini dove arrivare a zero i punti di fornimento no al massimo non la perdiamo bravo no no johnny madonna ho guardato in un punto ho fatto 60 fps da 100 questa mappa mi sa che abbasserò qualcosa allora dopo su uno con un altro subito siate comunque morì in due colpi Oh roccoboia qualcuno ha sfondato una porta Sfondate la porta ma non me amici La porta ma non me Oh merda Porca troia Guarda che spavento Mi sono cacato sotto Tu sei pazzo di gesù amico ma che cazzo ci facevi da Oh No zio t'avevo preso Sono sul nostro spawn Non so cos'è se ha o dove sei tu O dall'altra parte Ma cazzo stava E' dentro? E' dentro A? Dentro A in un angolino Cazzo stava C'è uno su A C'è un altro che sta entrando Ha fatto un altro su A Sul tetto di A Ok Ok We captured A un attimo capisì rispone a cosa ma poi accompagna oh madre l'ho messo 82 anni ad esplodere ah coglione capo capo ma tu sei pazzo amico pazzo non vedo una sega eh vabbè dai va bene ok va bene oh c'è Oh no no zio no zio qua t'ho preso di brutto no 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 perché spari troppo forte perché spari? troppo forte cosa ho potuto dire? so adesso oddo abbassare ste cazzo di voci radio perché figha nel cervello mi entrano ora la gente fa la spesa e mia quella che il grosso c'è uno davanti tipo sulla tua destra non credo di averlo ucciso davanti a te no però forse l'ho fatto scompare l'hai fatto tu o l'ho fatto io? no io sicuramente c'è un altro davanti sopra sopra la casetta questi piccoletti che sento silenziato c'è un altro ah niente sono morto arrivo 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 c'è uno sul tetto di c e ce l'ho dietro minchia no il compagno devo darlo in alto a sinistra ha smitragliato ma che figlio di troia ma che bastardo grazie a tutti grazie a tutti